Ciao a tutti! Nell'ultimo video dove sfogliavamo insieme il burda e quindi parlo del burda di settembre, vi avevo mostrato una maglia, questa qui, ok, che a me era piaciuta veramente tantissimo. Penso sia una maglia super basic, comunque che può stare bene, una di quelle cose che metti con tutto, no? Cioè con i jeans, con una gonna, infatti qua l'hanno messa in maniera un pochettino più elegante, però insomma è una maglia veramente da tutti i giorni. Mi piace tantissimo lo scollo e la manica a tre quarti. Quindi, dato che è anche un super easy, eccetera, eccetera, e vorrei cominciare a confezionare qualche cosa di più, diciamo, che posso mettere anche con più frequenza, ok? Quindi una maglia del genere, secondo me, potrebbe benissimo essere una maglia per tutti i giorni. E ho pensato appunto di realizzare questo modello qui. Non volevo fare, per favore sul tutorial, volevo fare una cosa un pochettino più chiacchierata, così mi fate compagnia mentre lo realizzo. E quindi vi ho portato con me, ecco, perché la telecamera è accesa. All'interno della rivista, lo stesso modello in versione abito è proposto all'interno della scuola di cucito, che è qui, ok? Quindi in realtà all'interno della rivista avete benissimo comunque tutte le istruzioni illustrate. Ovviamente l'unica differenza è la lunghezza, per cui i passaggi, poi anche per fare l'orlo sotto della gonna, è lo stesso per fare l'orlo sotto della maglia. Per cui potete comunque seguire tutte le istruzioni che sono contenute all'interno della rivista. Adesso magari, mentre lo facciamo, vediamo quali possono essere i passaggi un pochettino più complicati. Vediamo se ce ne sono, perché in realtà è un super easy. Così magari li facciamo insieme e se volete riprodurre anche voi questo modello, magari quel passaggio può esservi utile. Come materiali mi sono già un attimo preparata, perché è un abito in jersey, per cui va usato un tessuto elasticizzato. Quindi la domanda, posso usare un cotone? No, perché la vestibilità poi non riuscireste a infilare la maglia o il vestito, ok? Quindi usate assolutamente un tessuto elasticizzato. Il collo così mi chiamava tantissimo il jersey a righe, infatti ho tirato fuori quello a righe blu nevi e bianco, che in effetti ci sta un sacco, però io ho già una maglia di questo tipo. Allora ho pensato, facciamo un'altra cosa e siete pronti, perché io vi sto facendo uno spoiler gigantesco in questo momento per la collezione autunno dello shop, ma perché vi voglio bene e quindi ve li mostro. Allora, userò questo tessuto qui che è un jersey, ok? Quindi comunque elasticizzato, mamma mia quanto è morbido, bellissimo. Una tinta neutra e infatti era proprio quello che cercavo, nel senso volevo proprio un capo che si adattasse poi a più look, ok? E, qual è la particolarità di questo tessuto? È che non è un jersey di cotone qualsiasi, è un jersey di bambù, misto cotone. Per cui c'è una percentuale bella alta di bambù all'interno, che è del 68%, se non sbaglio, sì. E poi c'è una percentuale di cotone del 28% e un 4% comunque di elastane. Insieme a questo tessuto qui ho pensato di utilizzare il numero 40 di Gutterman, che, diciamo, è leggermente più freddo come colore, se mettete il rocchetto proprio sopra alla stoffa, ma in realtà poi il filo, cioè a vederlo proprio come filo, si mimetizza molto bene con il tessuto, quindi il 40% ve lo consiglio. E, quindi, quello nevi lo mettiamo via, adesso passiamo invece agli accessori per cucire il jersey, vi mostro un po' gli aghi che andrò ad utilizzare. Allora, intanto ne approfitto così vi mostro da vicino il tessuto, che come vedete comunque è elasticizzato ma non eccessivamente, ed è bistretch, quindi da un lato e dall'altro, è morbidissimo, veramente bello, al tatto è veramente una coccola, e diciamo che come spessore o comunque come resa è un misso tra un jersey di cotone e un jersey di viscosa. Per cui il jersey di viscosa solitamente tende ad essere un pochettino più elasticizzato, questo qua ha comunque la stessa elasticità magari di un jersey di cotone, però la morbidezza si avvicina più al jersey di viscosa, se avete in mente, insomma, questi due tessuti. Comunque molto bello. Questo è il filo, che se vedete sembra leggermente diverso, però una volta poi srotolato, insomma, io faccio sempre la prova in questo modo. Adesso vediamo se trovo la cima del filo. Eccolo. Io faccio sempre la prova in questo modo, è così, diciamo che essendo molto sottile, comunque si nota poco lo stacco di colore tra i due. Questo è leggermente più marroncino, questo è leggermente più freddo, però veramente non si nota una volta srotolato. Quindi, ok, come aghi, dal mio set di aghi stretch barra jersey, allora qua mi tengo da parte l'ago gemello, perché potrebbe tornarmi utile per gli orli, devo ancora decidere, e poi andrò sicuramente di aggo jersey, però dal mio set, quello 70-90, ho finito i 70, infatti comincerò la mia scatolina di jersey 70, che sono quelli di un pochettino più sottili, e che secondo me per questo tipo di tessuto, che comunque non è particolarmente spesso, preferisco usare i 70. Quindi intanto questo lo possiamo mettere via, questi due li lascio fuori. Leggendo le istruzioni ho visto che sulla parte del collo consiglio di utilizzare il nastro, il T15, quello di Freudenberg, e io utilizzerò quello nella versione nera, perché attualmente ce l'ho in nero a casa, barra sullo shop, quello bianco non ce l'ho disponibile, per cui userò questo qui. Ed è un nastro termoadesivo, che è leggermente elasticizzato, che serve appunto a rinforzare insomma i bordi del collo, dopo vedremo insieme come applicarlo e il risultato insomma che viene fuori. Allora, il cartamodello si trova sul foglio A e le parti del cartamodello sono... Ah, 2 e 3 sul foglio A e sul foglio B la parte 1. Casino, ok. Intanto troviamo le parti. La lunghezza è qua, perché questa è la parte dedicata al vestito, la maglia invece è fino a qui. Ok. Giorno 2, e sono tornata riccia, ma a parte quello, ho deciso di fare la taglia più piccola, in modo da avere comunque un capo abbastanza aderente, perché voglio che sia bello comodo anche all'interno dei pantaloni, barra delle gonne. Ho già tagliato il mio metro di tessuto, perché ho fatto la prova di posizionamento e con un metro, per la taglia appunto che ho fatto io, mi va più che bene. Ho già lavato il tessuto e infatti ricordatevi assolutamente, ogni volta che cominciate a fare un progetto di cucito, specialmente se si tratta di abbigliamento, mi raccomando, lavate il tessuto prima di andare a ritagliare i pezzi, perché specialmente i tessuti naturali tendono a restringersi con il lavaggio e rischiate praticamente di aver comprato un tot di stoffa o comunque di aver tagliato un tot di stoffa che è esattamente della misura che vi serve e poi invece tagliandolo si restringe leggermente. Questo è normale, succede con la maggior parte dei tessuti e appunto vi consiglio di lavarli, specialmente per questo motivo qua. Il secondo motivo è un discorso igienico, nel senso che se poi voi comunque dovete fare degli aggiustamenti, a parte che lo toccacciate tutto il tempo, lo ho il tessuto mentre lo state cucendo e poi vi toccacciate tutto voi, vabbè per i miei tessuti, nel senso io so come li tengo, so che comunque ho un ambiente pulito eccetera eccetera, prima di passare da me però sono stati in altri magazzini, quindi io non posso assicurare per gli altri, di conseguenza insomma per un discorso di igiene è sempre meglio lavarli. Questa è la situazione, ho piegato a metà per avere il ripiego della stoffa, qua c'è la cimosa e praticamente ho piegato il tanto per posizionare uno dei due pezzi della maglia, questo è il dietro, sì, sì è il dietro, e poi cosa ho fatto? Dall'altra parte avrei potuto piegare l'altra cimosa, ok, però poi mi si creava uno spazio vuoto qui e invece ho piegato direttamente in questo modo per creare un altro ripiego della stoffa e posizionare l'altro pezzo, se vedete praticamente è come se si incontrassero nel mezzo, però ho ancora tutta questa stoffa qui, questo perché l'ho fatto, perché così la parte alta riesco a recuperare, non che mi serva per questo progetto, però per salvare più stoffa possibile in pezzi grandi, riesco a recuperare un pezzo che praticamente vada sopra questo pezzo fino a sopra questo, per cui ho un bel pezzo insomma. Invece da questa parte, quindi con la stoffa rimanente, però lo farò vicino al margine di cucitura in modo da poter avere più stoffa possibile proprio nella parte alta, andrò poi a posizionare le maniche, una qua sulla parte bassa come le altre cose insomma, e poi se vedete qua finisce questa, e quindi riesco a posizionare l'altra nella parte alta, in questo modo ho utilizzato un unico metro di tessuto, ovviamente questo perché sto facendo una taglia più piccola, non so dirvi poi se nella taglia più grande che c'è sulla rivista, insomma si riesce a fare la stessa identica cosa. e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io calcolate che ho lasciato un... poi stiro... ho lasciato un margine di circa un centimetro perché andrò a fare le cuciture con la taglia cuci, ok? E quindi non vado a tagliare come c'è scritto nelle istruzioni, insomma, la parte alta, semplicemente passerò sopra così, nel senso, boom, vediamo come viene fuori. Quindi, praticamente vado semplicemente a stirare su, molto delicatamente, ho escluso il vapore dal ferro, in modo che si attacchi il nastro alla stoffa. Non tiratelo, cioè non serve tirarlo, basta semplicemente accompagnarlo, essendo un po' elasticizzato, comunque segue abbastanza bene anche le curve. Poi l'eccesso semplicemente lo vado a tagliare via. Quindi prima lo applico e poi tolgo l'eccesso, tanto non... non serve fare il contrario di prendere le misure che per rischiate che magari sia troppo corto. Questo fa sì che comunque ci sia l'elesticità del tessuto, ok? Però praticamente rende un pochettino più stabile questa parte qui, che se no magari indossando il capo, essendo in jersey, potrebbe cedere poi a lungo andare. Allora, con il pezzo di stoffa che è rimasto tagliato, se vedete, praticamente questa specie di... non è uno sbieco perché in realtà l'ho tagliato al dritto, ok? Cioè una fascia orizzontale normale perché tanto il jersey riesce comunque ad adattarsi, no? Alle curve. E' alto 3 centimetri e ho preso le misure del collo in alto. In questo modo mi sono creata, tra virgolette, il mio sbieco di jersey. E l'ho fissata in questo modo, quindi dritto contro dritto. Andrò a fare una cucitura a zigzag per evitare di avere spessore. E poi lo richiuderò in maniera tale da rifinire la parte alta dello scollo. Diciamo che questa, secondo me, era la parte un pochettino più problematica, diciamo così. Ma in realtà sono semplicemente dei passaggi un pochino diversi magari da altri modelli. E quindi ci tenevo a farvi vedere nel dettaglio questi passaggi qui. Adesso finisco di rifinire il collo, che così poi vado avanti, insomma, con la maglietta. Dobbiamo vedere anche come unirli insieme. Allora, ho spostato, se vedete, lo sbieco sul retro e quindi non l'ho messo sul davanti, al dritto contro dritto, per cui ho messo il dritto dello sbieco sul rovescio della stoffa. Questo perché? Perché adesso io ho fatto questa cucitura a zigzag per fermare, diciamo, e per avere anche una traccia per la piega. E adesso cosa vado a fare? Praticamente tenendo in alto il margine, piego verso l'interno questa parte qui e la porto sotto. Cerco di piegare in maniera tale da avere la parte dove andrò a fare la cucitura sotto a questa parte qui, che ha un minimo di spessore perché c'è la cucitura. Ok? Quindi lo piego in questo modo, prendo lo spillo e fermo. E faccio così per tutta la lunghezza di questa parte qui. Vi faccio ancora un paio di punti che vi faccio vedere. Perché questo? Perché quando io andrò a fare adesso la cucitura che mi serve, insomma, per fermare, per chiudere questo sbieco, in questo modo io la farò sul davanti e quindi avrò, diciamo, più controllo su quello che sarà il risultato all'esterno della maglia. E infatti l'ho già fatta da questa parte e se vedete, ho fatto praticamente una cucitura elastica. È un punto elastico questo qui, così viene un'unica cucitura, ok? Non è a zigzag. Se non avete il punto elastico potete fare anche un punto a zigzag, ok? L'importante è che mantenga bene la cucitura. E questo è il risultato al dritto. Ho seguito proprio il bordo, ok? E al rovescio, combinazione, perché non ci avrei mai sperato, la cucitura praticamente segue esattamente la linea, ok? Quindi si vede anche a malapena al rovescio. Ovviamente si vede la parte questa qui nera del rinforzo, ma tanto sta all'interno della maglia, quindi non la vede nessuno, insomma. Tanto se vi state chiedendo che punto è quello elastico, è questo qui, praticamente è come se fosse una sorta di zigzag molto basso, molto stretto, sembra così una saetta, praticamente. Allora, qui io ho rifinito entrambi gli scolli, ok? Quindi sia davanti che dietro. Adesso per sovrapporli, io direi che la parte davanti deve stare sopra a quella dietro, oppure no. Vediamo un attimo il disegno. Allora, sembra invece che la parte dietro debba stare sopra a quella davanti, quindi immagino in questo modo. Quindi, praticamente qua c'è un taglio, ho fatto un taglio nel senso che c'è una tacca sulla parte davanti, che va a congiungersi con la punta della parte dietro, ok? Quindi, praticamente, congiungo in questo modo e metto gli spilli. Qui, sulla parte dietro, resta una tacca che secondo me coincide con il centro della manica. E poi c'è la tacca del davanti sulla manica, per cui poi per attaccare il giro manica non dovrebbero esserci problemi, basta fare riferimento alle tacche. Questo è il risultato della maglia, mi manca solo l'orlo alla fine, ma adesso lo andiamo a cucere insieme, perché ho montato l'ago gemello sulla macchina e, infatti, ho già fatto anche gli orli sulle maniche. Per adesso, comunque, la maglia mi sta piacendo molto, dopo ve la mostro anche indossata, così mi fate sapere voi anche che cosa ne pensate. Adesso ci mettiamo sulla manica... Sulla manica! Adesso ci mettiamo sulla macchina da cucire, che così vi mostro, insomma, come vado a fare l'orlo. Le cuciture interne le ho fatte con la taglia a cuci, per cui ho utilizzato i Mini King di Guterman, quelli da mille metri, è il solito filo che trovate anche sul mio shop per la taglia a cuci, che è leggermente più sottile rispetto al cucitutto, e quindi su cuciture, quelle a più fili, la cucitura risulta meno spessa, e quindi, insomma, è più adatto a cuciture di questo tipo, insomma, con la taglia a cuci. Infatti ho fatto la cucitura a quattro fili, adesso magari ve la mostro anche nei dettagli, o sul tavolo. L'unica cosa, ho dovuto cucire più volte uno dei giro manica, perché non riuscivo a pizzicare bene tutti gli strati di stoffa, infatti mi si, diciamo, mi si sfilava in alcuni punti, e ho dovuto disfare e rifare, però con la taglia a cuci la cosa assurda, è che uno dice, ah, caspita, la taglia a cuci, tipo fa questa cucitura tipo a tanti fili, quattro, a tanti fili, e tipo sembra, ci spaventa un pochino anche da scucire, in realtà, una volta capito come scucire appunto le cuciture da taglia a cuci, si fa molto prima a scucire quello che non le cuciture a macchina a cucire, quindi, insomma, non è stato poi un problema il fatto di scucire e ricucire più volte, e niente, continuiamo a fare queste cose, perché io poi mi perdo. Come vedete ho usato le pinze, per fissare, diciamo, l'orlo sotto, ripiegato verso l'interno di due centimetri, e ho messo le pinze, perché le ripiego l'ho fatto praticamente con la maglia tenuta al contrario, però le pinze mi permettono poi di fare una cucitura o da questo lato o da questo lato, invece gli spilli li dovete mettere per forza dal lato dove poi andrete a cucire, no? Per cui mi trovavo più comoda in questo senso con le pinze, e la cucitura, quella con il doppio ago, ovviamente la faremo sul dritto, perché le due cuciture parallele devono stare sopra, mentre poi sul sotto si creerà un punto a zigzag che dopo vi mostro. Vi mostro le cuciture con la taglia a cuci, praticamente ho fatto il giro manica, ok? e appunto in alcuni punti ho dovuto scucire più volte, non so se era questo che l'ho scucito più volte o l'altro, mi sa che era questo qui, comunque alla fine insomma è andato abbastanza bene, e poi ho chiuso semplicemente tutto insieme, sia la manica che il laterale, e in questo caso invece è andata benissimo al primo colpo, e le tacche di riferimento, quelle che c'erano sul laterale, sono state fondamentali poi per allineare bene il davanti e il dietro del tessuto. Adesso mi metterei sulla macchina, che vi faccio vedere insomma l'ago gemello. Ve lo mostro così alla veloce, sto utilizzando il punto dritto, ok? Quindi il classico punto dritto, ho montato il rocchetto, e poi ho preso la bobina che stavo utilizzando, e l'ho montata come secondo filo, ok? Che verrà appunto sulla parte alta della cucitura. Qua sotto ho montato il doppio ago, e il filo del rocchetto l'ho montato su un ago, mentre la bobina sull'altro, ok? Quelli che abbiamo visto adesso sopra. Sotto adesso per praticità mia, ho montato la spolina col filo bianco, semplicemente perché ce l'avevo già pronto, in alternativa potete utilizzare comunque ovviamente, ne fate una seconda spolina, così potete mettere il filo dello stesso colore, a me non interessava perché tanto la cucitura bianca poi resta all'interno, e quindi non si vede, tanto avevo già fatto le altre cuciture bianche, quelle della tagliacuci, quindi mi andava bene così, era una cosa un po' più pratica, un po' più veloce. Adesso praticamente cosa faccio? Io vado a cucire al dritto, e cuciro seguendo le tacche, ok? Io ho piegato di due centimetri verso l'interno, praticamente mi terrò più o meno su un centimetro e mezzo, per fare la mia cucitura, in modo tale da rimanere comunque all'interno di questo margine che mi sto tenendo, dell'orlo, e farò semplicemente una cucitura dritta, come se avessi un unico ago. Inizio sempre da un laterale, perché magari sui laterali si vede meno l'inizio e la fine della cucitura, ok? Poi, vado avanti e indietro per saldare il punto, e poi vado avanti, tranquillamente. Poi una volta arrivata la fine, ovviamente, faccio semplicemente avanti e indietro dove ho iniziato, e la cucitura è finita. Allora, questo è il risultato finale della cucitura dell'orlo, con l'ago gemello, e praticamente, se vedete, si creano due cuciture parallele dritte sulla parte esterna, mentre all'interno c'è, praticamente col filo bianco, così lo vedete anche a contrasto, uno zigzag, che appunto va a fermare le due cuciture. Per cui, in realtà, potete usare semplicemente un punto dritto, basta che avete l'ago gemello, e potete farlo su qualsiasi macchina da cucire. Allora, questa è la maglia indossata, come vedete il collo, comunque, è molto carino. Qua cade un pochettino a cascata, non so se perché, effettivamente, tipo, non ho tolto quel profilo che c'è scritto nelle istruzioni, comunque non mi dispiace. L'unica considerazione che ho, diciamo, lato negativo del modello, pensavo vestisse un pochettino più aderente, infatti, avendo fatto la taglia più piccola, pensavo, insomma, vestisse un pochettino più stretto, se non altro qua, del busto, perché qua delle maniche in realtà è perfetto, però non mi dispiace, nel senso che come maglia, comunque, rimane una maglia che sta bene un po' con tutto, secondo me, infatti, me la immagino già, o con una bella gonna, magari una collana un pochettino più vistosa, e adesso c'ho la solita collana, insomma, il punto luce classico, quello che ho sempre addosso, però, insomma, con una bella collana, secondo me sta bene, e anche con un jeans, la gioca di jeans sopra, o, insomma, una cosa un pochettino più sportiva, non è male, insomma, è una maglia che comunque è molto, molto basic, e, infatti, insomma, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, il tessuto addosso è morbidissimo, infatti, sono contentissima della scelta, non vedo l'ora, insomma, che escano sullo shop questi tessuti, che così li potete vedere anche voi, insomma, voi vedrete e mi direte anche cosa ne pensate, vi ricordo che giù in descrizione troverete la lista, con i link al mio shop, di tutti i materiali che ho utilizzato all'interno del video, e quando uscirà la stoffa vi aggiungerò anche il link della stoffa, che così lo potete anche reperire velocemente da questo video, e in descrizione, come al solito, trovate anche i link per seguirmi su Facebook e su Instagram, se ancora non lo fate, avete piacere di seguirmi anche lì, trovate tutto in infobox. Vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia, insomma, per aver visto il video, vi mando un bacione, e ci vediamo al prossimo, ciao!